Con il bollettino di ieri sera, l'Asra Vellino ha comunicato che il risultato positivo al Covid-19 è il tampone effettuato dall'azienda Moscati su una persona residente nel comune di Teora. Si attende la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità. L'azienda sanitaria locale intanto ha in corso l'indagine epidemiologica per procedere ad attivare la sorveglianza sanitaria sui contatti del probabile caso. Ad oggi dunque in Irpinia si registrano 374 contagiati. Sale il numero dei guariti. Ieri pomeriggio i sindaci di Atripalda e di Solofra hanno informato le proprie comunità della guarigione di due loro concittadine che sono tornate a casa dopo essere riuscite a sconfiggere il coronavirus. Ovvero una cinquantenne di Solofra e la settantunenne di Atripalda. Una notizia positiva anche da Chiusano con la fine dell'incubo per una sessantacinquenne. Dunque i guariti in Irpinia sono undici. Le vittime del coronavirus invece sono 39 e purtroppo è ariano il comune con il numero più alto di casi di contagiati, ben 134, di cui 14 vittime, di cui uno originario di Greci. Intanto dall'aggiornamento delle ore 22 di ieri dell'unità di crisi regionali sono stati processati 1.880 tamponi di cui 76 hanno dato esito positivo al covid-19. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus inoltre è di 29.664 il totale complessivo dei tamponi eseguiti in Campania mentre il totale complessivo dei positivi nella nostra regione di 3.344. Grazie. Grazie.